Ciao ragazzi, volevo dirvi che sono molto felice, non mi sarei mai aspettato di raggiungere il secondo posto quindi ringrazio tutta l'Italia, tutta l'Europa, tutti quanti voi come avete sostenuto, che avete sostenuto soldi quindi grazie, grazie, grazie No no, voi vedete crisi dietro ogni angolo, ogni discussione, ogni confronto ieri siamo entrati in questione dei ministri molto seriamente, abbiamo affrontato i temi che erano all'ordine del giorno e ci siamo aggiornati, nessuna crisi, nessun diverbio Grazie Grazie So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen It is and will always remain a matter of deep regret to me that I have not been able to deliver Brexit It will be for my successor to seek a way forward that honors the result of the referendum To succeed, he or she will have to find consensus in Parliament where I have not